buongiorno buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo no vabbè sta pieno sta pieno sta pieno pieno giova svegliarsi così è imbarazzante per quanto è pieno eh giova com'è grandissimo pronti questo video stai frullà tutto pronto tutto pronto faccio cose che bello guardate che bella casa qua ragazzi fantastica del grande gio la mente del video della canzone che uscirà a fine maggio stiamo ragionando ve lo voglio confessare questa notte ho dormito ebbene sì proprio con lei comunque a parte tutto oggi sarà il mio ultimo giorno fuori casa spero che abbiate capito che sto finendo le ultime cose per la canzone per il video quindi stiamo 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 appunto sarà una bomba perché la canzone è fantastica la adoro e poi c'è anche il nonno in mezzo ci saranno tanti tanti miei amici quindi boh sarà una bomba ragazzi c'è solo da aspettare è stato molti messaggi questa mattina eh di dello show che ho fatto ieri al ristorante perché io so così ragazzi cioè addirittura il ragazzo quel ragazzo lorenzo che lo saluto che ho fatto un po' una minchiata andare dalla sua ragazza in quel modo ma ho detto io solo su instagram americo sì no invece sono proprio scatenato anche nella vita reale ragazzi so questo questo qua quindi ecco bello so contento so carico spero che lo siate anche voi forza coccodrilli non spesso fuori casa amo indossare questo giacchetto ragazzi la mia forza power era lei ed è lei sì già dove stai mi segue sempre le ho fatto un'ora di corsa ragazzi sono qua a san miniato in questo paese e devo dire che è stato bellissimo proprio bello raga uno può girare può andare su tanti posti ma l'italia è bellissima ragazzi stupenda l'italia peccato che a volte siamo noi che la roviniamo però a vedere tutte queste colline tutto questo verde mamma mia ti dà una carica nell'energia l'energia pazzesca sta pieno come mai ehi le eccole qua tede sta pieno sta pieno ragazzi sta pieno siamo qua studio registrazione eccolo il numero uno e la numero uno si arrabbia dopo eh lei è come lei che gestisce tutto eccolo guarda vai vai mamma mia che bello studio uno te le coccodrille interessate continuate a mandare curriculum al per partecipare al video nel mio nuovo singolo mi metto la mail qua mi raccomando curriculum con foto grazie mille a che adesso vi inquadrerò che dice sempre mangiamo fit non ti preoccupare lavoriamo mangiamo fit colpa tua qua no guarda pastrami impastrato rimpastrato rimpastrazzone ma che dieta è che dieta è e che dieta è è quella la faccia mancata la dieta no la dieta che mi fa la dieta che mi fai la dieta che mi fai i cazzi miei mi ha studiato federia le te boccio corpettano lei lei mi ha studiato non studia ragazzo si applica è bravo non studia fa la scarpetta guarda guarda arzuga vabbè sta pieno di vincite imac imac 18 euro 541 puntate poi passiamo un box di louis vuittons 4 ore 10 cento puntate per finire un iphone 12 dal valore 900 euro venduto a 2 euro e 93 con 54 puntate e qua vi porto oggi nella sezione luxury guardate che prezzi vi invito a vincere qualcosa anche voi fate swipe iscrivetevi e avrete 10 puntate gratis da utilizzare su bidu forza scusate scusate tutti è un giorno importante il compleanno di federico auguri fede auguri auguri ma che è un applauso forte questo più forte vai grazie grazie non è vero c'è contento però c'è contento no non è il tuo compleanno non è vero un cazzo però ogni tanto serve no è tutto rosso sudato che ha fatto una figura di me mi ha reso importante questo questo momento pago io dai pago io dai oh fammi pagare no no vabbè grazie scrocchella colpisce ancora incredibile anche a lucca la mia intervista fate swipe up ci tengo particolarmente che la leggiate tutta perché è molto carina e niente fate swipe e andate a leggere poi fatemi sapere allora sono un po scappigliato federico meno abbiamo chiamato quante persone è un po di un po di sorche poi le sorchette per il video vi ricordo sempre la mail che continueremo a chiamare perché deve veramente sta pieno quindi info carlettolife chioccio la gmail.com e niente comunque quanto è difficile parla con le donne però bene bene in realtà era la donna immobile sul letto stava col litro mignolo se la grattava si può di arriva pippo marito pazzo gli eleva il dito ci vedo grande maurizio che è questo maurì spalla 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 ma quella buona non è che palla questa è spalla di maiale o sotto palla questa è buona spalla buona spalla mamma mia assaggiatene un aperitivetto maurizio come l'hai bevuto maurì e così così al diritto sempre tu sempre sempre al palo ma dopo c'è chi appi a tagliare le bistecche certo tagli e storto dopo eh vabbè è una lampadina al palo infatti boh di qui secondo me eh no no ma vengono meglio le bistecche si vengono meglio le bistecche quindi tracannatevi una botte di vino che le bistecche vengono da soli tu eri no io sono non è zucchettina devi mangiare la zucchettina zucchettina sempre più sorpreso zucchettina bella veramente bello zucchettina super contento che vi sia piaciuta la mia intervista perché veramente ho parlato in maniera aperta come non avevo mai fatto e niente grazie mille guardate che bello e poi e poi e dopo Tu sei uno stronzo Grosso Con asse come quella del figlio Ma perché? Che sto a fare? Chi c'è? Chi c'è davanti a me? C'è un coglione Che stai a mangiare? Le lenti Le cache e nulla senti Questo, questo, questo è nel Vieni qui qua tu Chi se la fa l'aspetta Ma c'è tu Chi se la fa l'aspetta Ti ricordi quando me l'hai tirata tu? Ma adesso Dormimelo Questi sono dei bastardi proprio Guarda Vieni qua Vieni qua Questi o no? Guarda E' in questi? E' in questi o no? No Giacchini Eh? E' in questi o no? Ma te scatti di voi E' in questi? Ma già il bambino Questa è notte più bella Questa è il suo fratello Qui c'è una chiescina con tanti praticiani Che sono a Capparatina Lina, lina, lina Piazza, bella piazza C'è una beccaccia Con tanti pulcini Pio 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 Oh manco mia Oh manco mia Questa è la più bella 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 Questa è quella Ma sei una coccodrilla Allora no Dai Eh Eh Sento che fue Allora se pensi Singapore si fosse la cucina grazie di volante